Era salito sulla vetta del cinema Skyline nel centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni, arrampicandosi insieme agli amici, ma è precipitato per 30 metri in un condotto di aereazione. È morto così sabato sera Andrea Barone, quindicene di Cusano Milanino, dopo una disperata quanto inutile corsa in ospedale al termine di un complesso salvataggio dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dalla conduttura nei sotterranei dell'ipermercato. La procura di Monza ha già disposto l'autopsia sul corpo a pochi giorni da una morte avvenuta per una sfida assurda, quella di Igor Mai, trovato impiccato a 14 anni nella sua stanza dopo aver visto un video di sfide pericolose su YouTube. La voglia di adrenalina ha portato Andrea al centro commerciale intorno alle 22.30. Insieme ai tre amici è salito in cima usando le scale antincendio, dopo aver scavalcato alcune recinzioni che portano al tetto dell'edificio, ignorando i segnali di divieto e le barriere. Fino al punto più alto, lassù nel buio non ha visto l'apertura del canale di aerazione e ci è caduto dentro oltre 30 metri di volo fino al secondo livello interrato dove è rimasto incastrato fino all'arrivo dei soccorsi. I vigilantes del SARC hanno incrociato i suoi tre amici sulle scale sconvolti e preoccupati. Nonostante il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre il ragazzo in fretta, per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto appena avarcata la soglia del pronto soccorso del Niguarda. Già dalle prime ore di ieri mattina fuori dalla sua casa sono arrivati amici e parenti, i volti tesi davanti alle finestre con le imposte socchiuse accanto alla bicicletta del ragazzo poggiata al muro di cinta della casa dove è cresciuto in un quartiere residenziale alle periferie di Cusano Milanino. Per le sfide al cardiopalma Andrea aveva una passione sfrenata, su Instagram foto e video, lo ritraggono sui tetti a un passo dal vuoto ad altezze impressionanti, con le gambe a penzoloni dal cornicione o mentre alza le braccia al cielo e ancora mentre guida un motorino senza casco nel buio con un'amica sulle spalle e un altro seduto dietro. Studente dell'Istituto Montale di Cinisello Balsamo era così che voleva raccontarsi sui social la morte non ci fa paura, la guardiamo in faccia, scriveva su Instagram a commento di una foto in cui è ritratto sul tetto di un altro condominio mentre guarda nel vuoto.